gente valente e tutti quelli che sono intervenuti, grazie specialmente che poi ci fanno ascoltare delle cose e Salvatore Roberto che ci ha fatto sentire una bellissima cosa in chiesa Cari concittadini, il 4 novembre è un giorno importante per la storia d'Italia si celebra in questa data dal mistizio che nel 1918 con la vittoria offensiva di Vittorio Veneto pose fine alla prima guerra mondiale, quella una guerra di redenzione per il popolo italiano e non una guerra di conquista, i nostri soldati furono sfinti da un indomino spirito patriottico grazie al quale l'Italia, nata come Stato unitario nazionale nel 1861 completò il proprio processo di unificazione con le annessioni del Trentino e dell'Alto Attico grazie a tutti